Serbatoi, aperto, perché è chiuso tutto il serbatoio? Aperto, chiave off, 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 minimo, off, tutto chiuso, ok, perfetto, ancora, porte e cinture chiuse e bloccate, la tua cintura è inserita. Serbatoi, on, tutte e due, chiave, bot, on, fuel pump, aria. Elica! Ok, sentiamo. Si è davanti, si è davanti. No, questo sia un itterfone. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.